Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Soluzioni PC Oggi vi faremo vedere come regolare l'audio del microfono dalle impostazioni di sistema di Windows Allora, per prima cosa andiamo sull'altoparlante in basso a destra, questo qui e clicchiamo con il tasto destro del mouse Poi andiamo su dispositivi di registrazione Vi comparirà un elenco Selezioniamo adesso il dispositivo di registrazione che stiamo utilizzando Nel mio caso, cuffia con microfono Una volta selezionato, premiamo proprietà, il pulsante qui in basso E andiamo sulla scheda livelli Da qui potremo facilmente alzare o abbassare il volume del microfono Quindi una cosa semplicissima Adesso vi starete chiedendo come faccio a capire se il volume è quello giusto Per sentire l'audio del microfono Andiamo sulla scheda ascolto Da qui cecchiamo l'icona ascolta dispositivo E poi premiamo applica Ed ecco qua La vostra voce si sentirà E voi potrete regolare successivamente il livello del microfono Detto questo, vi saluto Per qualsiasi dubbio o domanda Scrivetemi pure nei commenti Se volete Detto questo, vi saluto Per qualsiasi dubbio o domanda Scrivetemi pure nei commenti E non dimenticare di mettere un bel like Se volete, iscrivetevi Che male non fa